È in partenza ed è possibile iscriversi fino a sabato 9 ottobre al nuovo corso di inglese online e serale proposto e promosso dal CLAR, quindi il Centro Linguistico d'Ateneo dell'Università di Urbino. Ne parliamo con la professoressa Enrica Rossi, come è possibile partecipare e in cosa consiste questo corso? Ecco, vedi Francesco, noi stiamo facendo esattamente quello che faranno i nostri corsisti, ovvero collegarsi online e quest'anno oltre ovviamente ad aver pensato ai nostri studenti di UniUrb, avevamo piacere di pensare anche ad un'utenza del territorio, ovvero persone che lavorando di giorno decidono di spendere un po' di tempo e dedicarlo alla propria formazione per imparare un pochino meglio l'inglese. E quindi abbiamo deciso di promuovere un corso che si svolgerà per 10 settimane, quindi praticamente fino alle soglie del Natale, il lunedì sera e il mercoledì sera dalle 8 alle 10, sperando che le persone che lavorano abbiano voglia di collegarsi a noi e lavorare, vedi come stiamo facendo noi in questo momento, per migliorare le proprie competenze in lingua. Esatto, la priorità quindi è per gli studenti universitari, ma non solo. Come funziona per quanto riguarda fisicamente l'iscrizione e i costi di questo corso? Sì, hai detto giustamente, la priorità del centro linguistico è la formazione dei nostri studenti universitari, però noi abbiamo un occhio di riguardo anche per il nostro territorio, non solo urbinate, ma in realtà è un territorio che è sempre più esteso appunto grazie alle tecnologie, riusciamo ad accontentare un pubblico sempre più ampio. Semplicemente basterà collegarsi al sito del centro linguistico cl.uniurb.it e troverete tutte le indicazioni sia per l'iscrizione sia per quelle che saranno le modalità di erogazione del corso, un percorso veramente molto semplice. Grazie. Grazie.